buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono Luigi onarac se preferite e siamo a dove pullare versione estesa allora come ho spiegato nel video uscito questa mattina non l'ho pubblicato nei gruppi quindi se non l'avete visto andate a vederlo spiegherò nel dettaglio in questo istante quali saranno le batch da adesso fino a broly quindi tutto il meta neo god e andremo a vedere dove pullare saltiamo le batch del super saiyan 4 di cui abbiamo già parlato e proseguiamo alle batch che dirò saranno comunque aggiunte altre batch di cui non ho le immagini però ne parleremo al momento giusto allora la prima batch che verrà affrontata una volta passato il nostro carissimo dock of the super saiyan 4 sempre ragazzi ve lo sottolineo che non ci siano modifiche perché potrebbero modificare qualcosa nel global sarà un rising dragon rising dragon con a tour il nostro caro vegeta super saiyan 2 che diventerà un ottimo pg in team doppio vg super saiyan 4 in un determinato team evil boo metal cooler pg fondamentale dell'extreme int è ottimo in team extreme su sharon e goku cooler quello con la mano alta in questa batch ci sarà anche per la prima volta gone lr ragazzi ha un rate infame da voi dovrebbe tornare anche magiette e broly non pullate per loro secondo me è batch da saltare finché non ci sono 4 lr non pullate ci troppo sopra appena ce ne saranno 4 andate picchiate duro quindi batch secondo me è totalmente da saltare dopo di che avremo qua parlo di fine luglio circa l'arrivo di cooler ragazzi il meglio dei neo god è all'inizio cooler è un pg che sulla carta può essere meglio sia di vegeta che di goku in determinate situazioni in media un pg a quel livello fa danno tanca riduce la difesa ha ottimi link e ha un team perfetto che lo supporta difficile da completare ragazzi non è un team facile l'extreme fisico ma perfetto insieme a lui nella batch avrete pg come broly fisico se lstr full power freezer di cui tutti dovrete aver preso almeno due copie in questo anniversario e merg zamasu pullare su questa batch? pullare su questa batch non è facile come sembra se pullate su questa batch dovrete pullare anche nella prossima batch fattore positivo cooler non ha per forza bisogno di copie per funzionare cooler è uno di quei pochi neo god leader 4 che funziona da dio anche senza pg senza avere ability chart a 2 quindi potete provare a pullarlo soprattutto se avete un team extreme fisico messo davvero bene e uscirà prima della sua uscita qual è il team extreme fisico perfetto jap in modo da potervi muovere batch consigliatissima salvo che voi non miriate unicamente ad avere un team di un colore solo in quel caso potete saltarla successivamente a cooler fisico uscirà la batch che completerà il suo team ovvero la batch monocolore fisica a partire da questa batch tutte le batch monocolori avranno un pg esclusivo che si trova solo là in questo caso avremo gohan mystic e super bu ragazzi il team di broli se vuole essere il team di broli sbaglio sempre il team di cooler se vuole essere davvero ma davvero efficiente ha bisogno di sto cavolo di super bu tutto super bu è sbagliato e sia farmabile recovery immonda boost assurdo è davvero una cosa senza senso ergo avete pullato su cooler avete preso cooler dovete pullare su sta batch come aggiunto ogni multi vi da due old kai quindi occhio ne approfittate ne vale di sicuro la pena gohan oddio ho per sbaglio attivato la batch di cooler gohan potrà essere anche un'ottima aggiunta secondo me nel caso voi in futuro vogliate poi pullare sul nostro carissimo gotheng super saiyan 3 quindi nel caso trovate un consiglio spassionato volete provare a far cooler ma magari non avete un team molto forte lanciate una multi massimo due da prendervi anche gli old kai che ci sta su sta batch trovate super bu potete mirare a cooler senza problemi trovate gohan avete magari veget blu e sa2 e trunks eccetera aspettate gothengs poi naturalmente sempre come preferite sono pg che non ha bisogno di abilità per funzionare quindi tranquilli a inizio metà agosto invece più sulla metà agosto avremo goku super saiyan 3 e qua sono dolori ragazzi c'è batch su cui mi pento di aver speso stone nonostante ho trovato trunks rage unica cosa positiva saltatela ma saltatela a pie pari allora partendo da un presupposto i due nuovi pg sono bardak masker saiyan e goku super saiyan 3 bardak è ottenibile in ogni summon compresa quella del torneo quindi bardak lo potete trovare sempre rec bassi ma sempre ci sta a fare due o tre multi nel caso abbiate molte stone soprattutto se scioppate per trovare bardak ma non mirate a goku ad oggi ovvero fine del meta goku super saiyan 3 è un insulto ai neo god leader è un pg totalmente inutile di un team totalmente inutile che diventa buono e sottolineo buono quindi raggiunge i livelli di un team di quasi ogni altro team del meta soltanto quando ha tutti i pg abiliti due quindi su questa batch nonostante abbia goku kaioken vegeta hint goten super saiyan 3 vegeta super saiyan 3 trunks abbia tanti pg saltatela a pie pari in quanto se continuate se andrete a pullare qua dovrete trovare più coppie di goku per riuscire a rendelo minimamente decente oltre il fatto che richiede un farming talmente pesante che la metà di voi purtroppo fisicamente potrebbe non riuscire a farcela ve lo dico masqued saiyan pg della madonna io ho sempre creduto in lui unico difetto è se hanno un farmabile richiede nuovo al kai che gli dovrete dare ragazzi con l'arrivo di broli fisico e un gran pg e il nuovo rosè bardak pg superiore al rosè in tutto in danni in supporto unico punto negativo non da chi ma il team extreme con metal cooler nel grande mango piccolo non ha bisogno di chi anche nella versione senza buffer non ha bisogno di chi quindi bardak pg della madonna avrebbe bisogno di ability per rendere al meglio ma anche ability free è un gran gran pg avrete poi una baccia gl colore che però non ha pg esclusivi e poi avrete a inizio settembre circa l'arrivo di super c 17 altra baccia da prendere e lasciar perdere secondo me in quanto ok ha di nuovo vegeta super saiyan 4 ok a rosè ok a vegeta gl però non è una batch davvero buona super c 17 che è il neo god con più rate up ha esser farmabile a tutto ma è molto sotto tono come pg richiede un cambiamento totale delle meccaniche di gioco per essere decenti che mi fa capire quanto ci è stato pensato male non è un granché macchinoso il suo team è superiore solo al super tech solo perché è stabile come danni sta sotto è un po' più stabile giracchia meglio ha qualche mossa interessante ma senza magetta e lr va poco anche lui lo so che quel vegeta super saiyan 4 attira ma io vi dico se non avete pullato vegeta all'anniversario lasciate perdere il suo team non vale la pena spendere stone su questo banner davvero secondo me non è il massimo proprio esagerando potreste non pullare direttamente da vegeta per seiyan 4 e pullare qua per farvi una cl di uno dei due colori a mezzo team extreme agl dentro ai due pg più importanti del super agl non è malissimo però se avete pullato già l'anniversario non è una batch che mi piaccia avremo poi durante questo banner il nuovo raisin dragon con le versioni tour di gohan super saiyan 2 great saiyaman e vegeta super saiyan fisico in questo banner a voi dovrebbe arrivare black e zamasu lr dato che sono un attimino cambiati gli ordini oppure molto più probabile dato che sono i due pg fisici uscirà l'lr fisica che deve ancora uscire nel jump stessa cosa qua iniziano ad essere 4 lr se avete stone a multi ogni banner fatela nel caso peggiore sono baba points che non fanno mai schifo quindi potete approfittarne avremo poi dopo l'inizio della scuola l'arrivo di kid boo kid boo purtroppo è un altro di quei neo god leader che richiede molte attenzioni super c17 che mi avevo dimenticato non chiede ability chart questo è una delle poche cose positive kid boo è un punto interrogativo come boss come personaggio il team extreme it è un grosso punto interrogativo come team in quanto soffre di molte carenze ma dall'altra parte è molto performante al suo massimo kid boo è sia farmabile oltre il fatto che ne avrete trovati 10.000 di kid boo tra i fisici di agile high tech quando lo pullerete quindi potete portargli l'S alta presente sia farmabile tramite buff su boo str che si trova nella sua batch però a mio avviso non è una batch su cui spendere è la batch su cui ho speso meno 10 stone 5 per kid boo e 5 per buff boo ho trovato kid boo rivedrete al suo interno golden freezer tech che appare ovunque goku e vegeta della saga di boo totalmente inutili kid boo int e boo come pg principali il team extreme it è molto particolare a differenza di altri team che hanno qualche sostituto purtroppo ha una sola versione davvero performante e anche quella versione deve avere S alta e possibilmente abiliciare su boo io ci riesco a giocare con extreme it con 5 persone su 6 ma fatico vedrete su broly che ci ho messo 30 minuti a batch fase 3 tutto sulla fase 3 non consiglio di spenderci non si sa quando tornerà kid boo però comunque non è questo gran pg il suo è un team semi zombie che però non funziona neanche molto come team zombie se non è maxato mi potete benissimo pensare di saltarla più ai pari anche perché dopo 2-3 settimane escono le batch davvero serie avrete poi forse il ritorno dal ale quindi buono e a inizio ottobre se tutto va bene avremo il dual dockham fest per i 200 milioni dovrebbe essere per i 200 milioni secondo i miei calcoli se non è per i 200 milioni potrebbero anticiparlo mettendolo prima di kid boo ci starebbe ci starebbe tanto kid boo vi ripeto è una batch da saltare dockham fest dei 200 milioni a mio avviso sarà nel global dual dockham fest gogetta e janemba qua ragazzi si fanno le hard pullate analizziamo bene quale delle due batch è preferibile naturalmente ragazzi quella di gogetta quella di gogetta presenta al suo interno veget blu trunks rage gov super saian 3 goku super saian 4 e gogetta stesso allora nel caso non abbiate nessuno di questa batch nessuno il vostro obiettivo è naturalmente gogetta gogetta funziona da di o da ability free fa più danni a parità fa più danni di qualsiasi altro neo god escluso un eventuale broly che si piglia un casino di or ma broly è un caso a parte pg della madonna miglior pg del gioco senza ombre di dubbio talmente forte da rendere gohan lr superfluo nel suo team trunks rage pg che si gioca al posto di gohan lr quindi avete già due dei pg principali del team dentro altri due sono free to play ovvero buff goku e il nostro caro piccolo lr e gli altri due vanno in base alla build che fate abbiamo goku super saian 4 e super saian 3 il super saian 3 rimane una trappola a meno che non ne abbiate già copie è quello che dovete sperare di non pullare goku carino ma vi ripeto come ho già detto nel video che necessita di copie per avere il massimo potenziale del team altrimenti è un pochino sottotono ad ability bassa il team non raggiunge la potenza di altri però qua potreste se avete iniziato a pullare il super saian 4 da goku completarvi il pg quindi importante come bacio vedete 2 ormai dovreste averlo ability però io non ne avevo nessuno ne ho trovati 3 di fila qua quindi degustibus batch gross ragazzi da buttarci tutte le stone però e qua c'è un però grande come una casa a differenza di ogni altro world of campfest non posso dirvi di abbandonare l'altra batch o meglio chiariamoci questa batch è la principale se dovete pullare pullate in questa principalmente in questa questo è il vostro primo obiettivo d'altro canto una volta trovato gogetta anche in monocopia e non dovendo portare ad ability alta i due goku o il vegeto o altro andate nell'altra batch perché questo la batch di janemba è una batch che vale oltre il fatto che janemba stesso è un pg che vi garantirà abbastanza velocità nel torneo come leader il suo team con broglie lr dentro un broglie lr amico è il miglior team torneo ad oggi nel jap è un pg che serve obbligatoriamente in un team super str lo so è un extreme ma non vi importerà un cavolo se goku non è ability 2 in quanto il team necessita di tanking obbligatorio al 100% in un team doppio broglie lr in quanto il team necessita di tanking a meno che non è broglie lr perfetto broglie ability 2 broglie tour ability 2 ma sono dream team sono sogni non possiamo pensare sogni pensiamo alla realtà ed è il miglior tank del gioco volendo per fargli capire quanto è buono voi lo potete mettere in qualsiasi team che farà comunque il suo lavoro non importa qual è il leader qual è altro lui in ogni team che lo mettete farà quello che deve fare evitare gli attacchi nemici e tankare oltre questo abbiamo merz Zamasu che otterrà un piccolo utilizzo in una versione di team broli super saiyan 3 particolare che però non è la cosa importante janem bagrasco con cui far magli l'SA e tornano cooler e bardak avete come team migliore l'extreme fisico potete mirare ad avere un cooler ability purtroppo non l'ho trovato da nazione cooler ability lo voglio non sapete quanto qua è la batch in cui mirare a bardak ragazzi se volete bardak mirate a questa batch perchè vi posso uscire altri pg buoni e bardak sarà obbligatorio per alcuni team il rainbow l'extreme e l'extreme tech necessitano di bardak in quanto è l'unico pg del gioco oggi che è obbligatorio in tre team diversi oddio no anche janem bestier in realtà però lui in quattro addirittura batch fantastica naturalmente quella di gogetta è la principale su cui buttare il maggior numero di stone a prescindere dal team int che avete ragazzi perchè un int super free to play con doppio gogetta fa tutti gli eventi se potete stare tranquilli int super totalmente free to play solo con due gogetta fa tutti gli eventi da quanto è potente gogetta quindi tranquilli anche se non avete pg int super pullabili gogetta è la vostra risposta avremo poi un altro qua c'era la batch di broli non so cosa vi metteranno punto interrogativo quindi lasciamo perdere e avremo per lucca quando probabilmente io sarò a lucca la batch di gothenk super saiyan 3 fisico allora gothenk super saiyan 3 buon pg buono pullarci sopra ma non esageratamente è un neo god che funziona anche senza ability ok lui senza ability funziona fa tanti danni debuffa la difesa con la 10 ki ha un team che lo supporta bene il fatto è che dovete avere il team dovete avere quel cavolo di veget blue ability 2 avete bisogno di supporto nel suo team lui subirà una marea di danni dato il suo debuff alla difesa quindi è consigliato pullare su gothenks quando avete il team indietro non sempre forse misty go ma aiuta un paio di buffer gothenk super saiyan barra bardak anche può andar bene veget blue e può essere un team che vi fa consigliare pullare su gothenks purtroppo la sua batch fa abbastanza schifo unici pg decenti lui è veget blue quindi non è tanto consigliata avremo poi il ritorno di dragon ball heroes che a voi non è mai arrivato ragazzi ad oggi la batch di dragon ball heroes è inutile anche se non l'avete avuta amen non perdete nulla spero vi arrivi evento biobroli con batch di biobroli saltatela si possono trovare gli lr nella batch di biobroli ma saltatela ne vedo alcuna motivazione di pullarci sopra io ci ho fatto qualche single ve lo dico per provare a prendere quel gothen per portare alcuni video ma dopodichè mi sono totalmente fregato della batch avrete poi un ulteriore racing dragon il racing dragon di bardak e fascia grande scimmia ci saranno già 5 lr in questo momento pullateci una multi o 2 caso peggiore avrete dei bellissimi baba points da usare caso migliore uscite con una lr e qua al 100% avrete già zamasu e black in quanto la batch successiva ultima batch di new god leader è broly super saiyan 3 allora riguardo broly ragazzi non pullate se non avete bardak bardak si può trovare nella batch certamente però non ha rate della bellezza la rate è un super saiyan 4 all'anniversario forse un po' di più se avete bardak avete golden freezer soprattutto se avete black lr quel caso ok pullate su broly ma non pullateci là solo perché oh cavolo è broly super saiyan 3 figo no ragazzi non funziona così il gioco potete farlo ma se siete free to play buttate solo stone al cesso broly necessita di un team dietro devo ancora capire anch'io qual è il miglior team con lui ne esistono due versioni sto ancora provando a farlo dopo il farm immortale per portarlo a s10 quindi usate la testa anche perché due dei pg che trovate sono inutili se il tech non lo vedo minimamente utile se no in una versione che praticamente non esiste ancora mega nuker del team e merg zamasu senza black lr fa un po' fatica quindi ad oggi mi consiglio mi sento di non consigliare di pullarci per forza dopo questa batch potreste avere anche voi un select camp festival ma se ne parlerà tempo debito e questo è tutto quello che sappiamo del metaneo gold detto come va detto le batch che consiglio di pullare se avete poche stone non shoppate e volete il massimo il massimo dell'efficienza pullate solo da gogetta non fate nulla non fate altro vi mettete dopo il super santo 4 a tenervi le stone arriva gogetta tutto quanto su gogetta è buona trovate gogetta prendete la seconda e la terza copia gogetta abiliti 2 non penso possa essere battuta una nulla attualmente oppure avete trovato gogetta non volete pensare abiliti 2 perchè basta abiliti 1 per fare qualsiasi cosa pullata genembre è una batch tanto bella tanto buona quasi allo stesso livello di quella di gogetta quasi 90% stesso livello quindi quello è il mio consiglio se davvero siete persone che vogliono solo il meglio fregatene di tutto il resto il resto è fuffa il resto è totalmente fuffa gogetta è il vostro obiettivo poi verrebbe genembre per il torneo se avete broglie l'erre ma anche se io non ho broglie l'erre il torneo l'ho fatto a questo giro che era una bellezza una tranquillità assoluta ho perso una volta sola perchè non mi aspettavo una special in semifinale e non ho messo a tancare con genembre altrimenti avrei eletto anche quella special quindi davvero tranquilli e non lo avevo ancora se 10 abiliti lo avevo ancora se a 1 quindi vedremo al prossimo torneo detto questo spero che il video vi sia servito vi auguro una buona giornata link in descrizione se volete supportare il canale con una donazione per vedere più pull oppure se volete dato che purtroppo stanno arrivando mandare cibo a Priscilla c'è la gente che mi compra il coniglio per lo sculo vabbè i casi della vita su internet si vede di tutto quindi non mi dovrei neanche tanto stupire oppure se volete andare nei gruppi facebook e instagram tutto in descrizione e vi ricordo che salvo imprevisti perchè ci sono sempre gli imprevisti l'8 alle 21 circa di sera chi non ha pullato i super saiyan 4 fino a quel momento potrà entrare in una live con me e spero anche altra gente in modo da provare a pullarli insieme arriverà poi con molta probabilità un video riguardante la serie su Undertale in quanto potrei aver bisogno di più aiuto del previsto per farle quindi mi rimetterò a voi magari qualcuno di voi potrà far parte di quella serie però voglio prima capire quanta gente mi servirebbe dato che purtroppo Tolto Feliciano Blasic e altre persone che si stanno impegnando duramente povero Feliciano lui si sta uccidendo perchè gli è capitata la cosa più difficile da fare di tutta la serie altre persone per un motivo o per un altro stanno dando buca non si stanno impegnando non mi mandano un emerito nulla e quindi sta avendo un ritardo abbastanza grosso e vorrei per fine estate almeno la neutra rifarla tutta grazie quindi di avermi seguito e noi ci vediamo più tardi con un altro video oggi ne escono tanti di video ne usciranno 5 ed è un video riguardante il Select Dokkan Festival in quanto dove pullare riguardante solo quello che naturalmente non sarà per il Global ma sarà solo per il JAP perchè non sappiamo se sarà uguale se saranno altre votazioni o altro io spero che la gente Global non si accogliona come quella JAP perchè quella JAP è stata idiota al 100% quel Select Dokkan Festival è la schifezza solo se ci mettono dei nuovi ticket per cui pullarci è decente altrimenti fa schifo ve lo dico questo è il mio pensiero su Select Dokkan Festival fa schifo perchè la gente è scema questo è il mio pensiero e noi ci vediamo più tardi con un altro video alla prossima